La mostra di economia domestica organizzata al Foro Mussolini dall'Opera Nazionale Balilla è stata visitata da Sua Eccellenza Ricci. La mostra comprende una notevole esposizione di lavori e vestitini per bambini, biancheria da tavola e da camera. Si è ancora allestita una mostra che riguarda la cucina e manicaretti vengono preparati dalle giovani e piccole italiane. Grazie. 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 Grazie.